Aria di Natale nel salotto buono di Vicenza, piazza dei signori addobbata a festa, splende un timido sole sulla giornata di attesa e mentre in tanti si preparano al cenone della vigilia i cittadini fanno un piccolo slalom di solidarietà. Nella loggia del capitaniato la straordinaria natività in vetro di Murano con raccolta fondi per sostenere l'altopiano di Asiago martoriato dall'uragano di fine ottobre, ma spulciando quella ecco qualcuno che di strada ne ha fatta tanta e da Amatrice, terra devastata dal terremoto, è giunto a Vicenza trovando accoglienza e generosità. Generosi, molto critici perché comunque vogliono assaggiare, provare, sapere quello che vogliono comprare, però poi generosi e bravi. Ancora ferita quella terra tra Lazio, Umbria e Marche. La zona di Norcia va un po' meglio anche perché è stata colpita un po' meno, la zona di Amatrice, ci sono ancora le macerie e vale più l'iniziativa privata che quella pubblica, diciamo, un po' come al solito in tutta Italia. Gente operosa, il pensiero che vola dagli appennini all'altopiano e i suoi boschi distrutti. Il bosco e la montagna fa parte della nostra cultura, della nostra vita e anche delle nostre basi, diciamo perché poi ci sia anche altro, quindi sicuramente è una tristezza e speriamo che si piantino un po' di pini.